...dare il nonno no, che la mamma alla finestra, con la voce serpettina, vieni a casa Marcellina, a dare ai mascalzone. Io non sono mascalzone, e nemmeno un delinquente, sono figlio di un tenente, sono per fare l'amore, e ho girato tutta Italia, e ho girato tutta Francia, ma una figlia così bella, io non l'ho bevata mai. No, no, lei ci serve. Ma non so se sono pronta per fare qualcosa. Anche oggi mi ritrovo con un occhio nero e vado al punto di soccorso. Non me la sento di dire cosa è successo, dirò che sono caduta dalle scaglie. Quindi, queste sono le pietre con cui tu parti nel tuo cesto. C'è qualche grido in suo aiuto? Dai Nadia, che ce la fai? Ribella, si. Parla!